Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di ripetute e in particolar modo sulla velocità da mantenere durante la ripetuta. Il mio consiglio è, se state preparando per esempio una gara da 10 km da correre in 45 minuti, cioè a 4.30, non ha molto senso fare delle ripetute a 3.30 sui 200 metri e ammazzarvi di velocità. Quello che consiglio è di fare delle ripetute intorno 4.20, massimo 4.15 su una distanza un po' più lunga, che sia allenante quindi per quello che voi state preparando. Quindi il mio consiglio è molto semplice, fate delle ripetute ad una velocità simile e leggermente inferiore a quella che terrete in gara, perché noi è quella velocità che vogliamo allenare. I muscoli devono saper lavorare a quella velocità, la testa deve sapere andare a quella velocità, e non per un breve tratto come 200 metri, ma magari anche 400, 800, 1200. Quindi allungare la distanza, abbassare la velocità, quindi andare quasi a un ritmo gara, recuperando poco, correndo tra una ripetuta. Questo è il mio consiglio su come effettuare delle ripetute. Poi ci può anche stare che in un momento specifico dell'allenamento vado a lavorare sulla velocità e quindi mi ammazzo di ripetute sui 200 metri a cannone. Però quello è un caso ed è un lavoro specifico sulla velocità. Per il resto, mantenete una velocità che più o meno è quella che volete mantenere in gara. Ciao a tutti e buona giornata! Grazie a tutti!